Oh, guarda, abbiamo appena vinto! Fine della partita, gamer! Hai dimenticato le regole del gioco! Ho salvato il mio ultimo livello! Si ricomincia! Tira fuori la carta del livello salvato. Sì, ma hai visto che si è toccato gli occhiali? Scommetto che la Kuma si trova lì. Ah! Anche noi cambiamo livello! Ok, ma ho ancora pochi minuti. Io lo dirigo, tu tiri. Perché non facciamo il contrario? Vuoi che facciamo testa o croce? Ok, tu dirigi, io tiro. Attenzione! Ci sta attaccando! Inizio delle ostilità. Hook, butter! Secondo round, gamer. Pyrami Sails! Campo di forza, Chanoir! Ricevuto! Campo di forza, attivato! Vada, laser! Ero Drill! È estremamente potente. Il nostro campo di forza è annientato. Dovremmo farne a meno. Lady Bomb! Laser Wall! Lady Elix! J-Guard! Kitty Punk! Ear Standard! Anticipa tutti i nostri attacchi! Attenzione, Lady Bug! Oh, Lady Bug! Niente mi renderebbe più felice che schiacciare te e la tua squadra di ridicoli perdenti. Non serve un'intera squadra. Bastiamo Chanoir e io contro i tuoi cloni. Saremo così forti che non vedrete nemmeno la palla. Vinceremo e ti deacumizzeremo in un batter d'occhio. Ahahahah! L'acuma è nel trofeo! E i trofei sono per i vincitori, non per i perdenti. Ottima tattica intimidatoria! Ma non funzionerà! Chanoir e io siamo i migliori a calcio. Io non so niente di calcio, Milady. Forse dovremmo chiedere aiuto a una vera squadra. Beh, Chanoir penserà a farare. Io recupero il resto della squadra. Allora, dopo tutto, non sei così sicura di te, Ladybug. Vediamo di che pasta sei fatto, gattino. L'espressione del suo volto temo che non sia affatto un campione. Sabrina Rencomprì, questo è il Miraculous del cane, che ti conferisce il potere di prendere e riportare qualunque cosa la tua palla abbia toccato. Mi dispiace, ma non posso fare questo a Chloe. Quella lì non è Chloe. È Penal Team. Non vuoi liberarla? Se questo salverà Chloe, allora sì. E poi io adoro il calcio. Ciao, io sono Buck e sono il tuo Kwami. Ladybug, io non sono così bravo a giocare a calcio. Io... io... Sei troppo duro con te stesso. Hai più talento di quanto immagini. Ciao, io sono Rinko. Giochiamo! Io... io sono lusingato, Ladybug. Ma non mi sento a mio agio a far parte di una squadra. Davvero? Non sei tu che lavori con uno scrittore per creare i fumetti di Ladybug? Lo userai per il bene superiore e me lo restituirai a missione completata. Posso fidarmi di te? Ciao, sono il tuo Kwami, Ziggy! Posso fidarmi di te? Ciao, sono Stomp. Aggiungiamo un po' di muscoli a questa partita. E se facessi male a qualcuno mentre uso i miei poteri? Va bene stare attenti, Ivan, ma ricorda, sei in una squadra di supereroi che affronta dei supercattivi. Nessuno si farà male. In balia di se stesso, Chat Noir sembra sfinito. Le continue pallonate hanno trasformato l'audace pedino in cibo per gatti. Non è più uno sport, è maltrattamento di animali. Non te la sei cavata così male, gattino? Ladybug è tornata! Ed ecco il gruppo scelto per questo match decisivo. Ladybug resta fedele al suo classico schieramento. Carapace, Pegasus, Ultimaus, Monkey King, Tigra Viola, Pigella, Vesperia, Viperion, Ryuko. Ma ci sono anche quattro nuovi acquisti di cui non conosco i nomi. Missy Gozo! Rooster Bold! Capri Kid! Minotauro! Blah, 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 blah. Ok, perdente, avete finito? Hai un piano per mettere le zampe sull'oggetto akumizzato? Lo otterremo quando vinceremo. E se non vincessi? Conosco i segreti di questo gioco. Finiamo questa partita una volta per tutte! Ci siamo a inizio lo scontro del secolo tra i Penal Team e il Team Miraculous. Impossibile, ingiustizia, tradimento! E fallo! Non secondo le mie regole! Attenti, non fatemi toccare dei suoi tacchetti! Penalty, passa penalty! Che passa penalty! Che sfoggio di incredibile coordinazione! È come se fossero una cosa sola! In effetti è proprio così! Pegasus lascia passare penalty! La squadra di Ladybug sembra disorientata! Pensi davvero che sia importante che io vi veda un no, Ladybug? Non c'è via di scampo! Se non mi date subito i vostri Miraculous, me li prenderò dopo che la panna montata di Gufo vi avrà seppelliti! Ha ragione! Siamo spacciati! No, non lo siamo ancora! Hai vinto, Gufo Oscuro! È giunto il momento! Attimo lavoro, Gufo Oscuro! Chiuderemo gli occhi e non diremo niente! Non possiamo farlo! Fidati di me! Ritrasformami! Ritrasformami! Miraculous consegnati, signore! Ora sono io, l'unico supereroe di Parigi! E un supereroe mantiene la parola data! Albert! Panna montata di Gufo disattivata, signore! Gufo Oscuro! Consegnami subito i Miraculous! Albert! Trasferimento! Sono in assoluto il migliore! Sono miei! L'abilità di creare di Ladybug e il potere di distruggere di Chat Noir! Chiunque riuscirà a unire questi due Miraculous potrà esprimere un desiderio che cambierà la realtà e cancellerà il passato! No, non può essere! No! Gufo Oscuro! Ladybug e Chat Noir ti hanno imbrogliato! Sono dei Miraculous falsi! Fatti di pasta di sale! Cataclisma! Io non sono un pipistrello senza ali! Chat Noir, aspetta! Non lo sconfiggeremo mai! Cosa? Ma non dobbiamo neanche permettere che lui sconfigga noi! Non credo di capire! Devo fare una telefonata! Coprimi! Questo posso farlo! Il gattino può miagolare quanto vuole, ma non ruggerà mai come la tiglia! Ladybug! Ladybug! Perfetto! Perfetto! Che cosa hai in mente di fare? Ah! Visione! Ah, questo sarebbe il tuo insignificante piano! Ora so quello che vuoi fare! Non abbiamo ancora finito! Cataclisma! Ti stai per trasformare in cibo per gatti! Prendi questo! E questo! Fatto! Voilà! Abbiamo vinto! Vinto? Sciocco insetto! Ora siamo incastrati! Io non sconfiggo te, ma tu non sconfiggi me! Oh, ma il mio piano non è sconfiggerti da sola! Scusami, ma devo prenderlo in prestito! Ecco! Come ne avevi detto di fare, Ladybug! Grazie, Marianne! Sei stata perfetta! Non ci sono più orme! Beh, non può essere scomparso! Sicuramente sarà saltato oltre lo stag... Il tunnel! Ci ha intrappolati qui dentro! Non abbiamo tempo di negoziare! Dobbiamo trovare subito Robotus! Sapevo che il cervellone sarebbe stato un gran guaio! Che ne dici di usare il tuo cataclisma? Riesco a malapena a respirare! Adesso siete la mia mercè! Robostus, prima di liberarti di loro per sempre, devi prendere i Miraculous per me! Ladybug e Chat Noir non ti hanno fatto nulla di male! Lasciali andare! Essere umani significa anche essere giusti! Prenderò i loro Miraculous e nessuno riuscirà più a separarci! E potrò anche realizzare il mio desiderio! Quale desiderio? Diventare un essere umano! Come te, Max! Come vuole realizzare un desiderio? Non è Papillon l'unico che vuole avere i nostri Miraculous! Che cos'era? Che succede? Ladybug? Insettina? Non lo so! Guarda, Max! Diventerò un essere umano tra 53 secondi! Devo ricordarti che i Miraculous sono per me, Robostus! E come pensi di impedirmi di usarli? Semplice! Togliendoti ogni potere! Credi davvero di potermi gestire? Invasion! Invasion! Modalità eliminazione attivata! Ho molto più potere di te, Papillon! Ma che succede? I miei amici si occuperanno di te mentre io penso a quei due! Da adesso ci vorrebbe proprio un'idea brillante! Mi dispiace, Chat Noir! Max! Mi dispiace, Robostus, e non posso permetterti di portare avanti il tuo piano! Devo fermarti! E ora, visto che siamo allo scontro finale, oltre al tuo superpotere, potrai scendere quattro oggetti dalle tue scorte! Anche se non mi prenderei il disturbo fossi in te, perché io ti batterò a qualunque costo! Sai una cosa, Chat Noir ha ragione! Mi godrò ogni singolo momento! Sono felice che il gioco ti piaccia! E mi piacerà ancora di più vincere, secondo le mie regole! Lucky Charm! Sei davvero molto brava! Ti aspetti di battere l'ideatore di questo gioco con un sacco di farina! E con qualche altro oggetto? Considerando quello che hai scelto, tra un minuto e 36 secondi esatti perderai! Ladybug, gamer 2.0, combattimento finale! Mi piacerebbe che durasse di più, ma i miei calcoli non sbagliano mai! I tuoi calcoli avevano previsto questo? Cataclisma! Ma che? Io sono l'idiatore del gioco! Posso essere qualunque personaggio! Credevi di annientarmi con quel tuo ridicolo trucchetto di magia? Coraggio, fai la brava e consegnami il tuo miraculous! Cosa? Questo è scorretto, non è divertente! Stai rovinando ogni cosa! Ops, mi dispiace, i tuoi colpi non hanno alcun effetto? Negli scacchi questo si chiama stallo, cioè ne vinci ne perdi! Che cosa hai detto prima? Ah, sì! Più dura la partita, meglio è... Avrebbe potuto funzionare se non dovessi aspettare che tu ti ritrasformi! Scacca matta, Ladybug, sconfitta dalla tua stessa strategia! Ciclone! Chi credi di prendere in giro? Ho vinto! Sei stata eliminata, Ladybug! No, non è possibile! Non ci credo! C'è un bug nel tuo videogioco, gamer! No, è impossibile! Persino i migliori videogiochi ideati hanno dei bug! Eliminato! Ladybug vince! Ma a volte... non è così! Micho, 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 Micho! Salve! Ho bisogno che scarichi qui sopra tutta l'erba che può, per favore! Coraggio, Belmicione! È ora di eliminare quella palla di pelo! Oh, no! Puoi darmi il tuo salvadanaio? Nemmeno per sogno! Ci sono i soldini che avevo messo da parte per comprare giochini al mio gatto! Lui? No, il mio gatto è scappato! E così Falena Scura ha promesso che mi avrebbe dato il gatto più grande del mondo per sostituirlo! Ma è cattivo e non mi da retta! Vai al mio gattino! Sai una cosa? Anche io ho perso il mio gattino e mi manca moltissimo! Ora dobbiamo rompere il tuo salvadanaio, così il grasso gatto non sarà più cattivo! Ma poi, le mie coccinelle magiche lo sistemeranno! E quando tu troverai il tuo gattino, potrai comprargli i giocattoli più belli del mondo! Ok! Ladybug scorpigge il male! Presa! Ciao, ciao, piccola piuma! Miraculous Ladybug! Il mio gattino! Sei stata perfetta! No, tu sei stata perfetta! Ma, Chat Noir... Non sono io. Plug ti restituirà l'anello. E io... Farò in modo che lo consegni al suo vecchio padrone. È stato un piacere, Ladybug. Chat Noir è un ragazzo molto fortunato. Non si maltrattano gli animali! Sì! Scusa se ci ho messo tanto, Chat Noir. Tranquilla, collega. Spacchiamo quella pietra una volta per tutte! Aspetta, lo ricordi? Se lo colpiamo, lo rendiamo ancora più forte. Dobbiamo escogitare un'altra tattica. Quale, ad esempio? Non ne ho idea. Ok, sfruttiamo i nostri poteri. Cataclisma! A quanto pare posso distruggere quello che tocca? A me non servono i superpoteri per distruggere tutto. No, aspetta! Non guarda! Forte! E ora noi due! Preparati a dire a Dio, zampe di pietrata! Chat Noir, aspetta! Uh-oh! Credo che il mio potere funzioni con una cosa per volta. Poi ci restano cinque minuti prima di ritrasformarci. Il tuo Kuami non te l'ha spiegato? Diciamo che ero troppo su di giri per ascoltarlo. Ok, tocca a me. Lucky Charm! Forte il tuo potere! Il mio Kuami mi ha detto che bisogna rompere l'oggetto in cui è la schiuma, cioè, volevo dire, la kuma. Ma lui non ha niente addosso. Hai visto la sua mano? Tiene sempre il pugno chiuso, non la apre mai. È come le matriosche, l'oggetto non è addosso a lui, è nascosto nel suo pugno. Qual è il tuo piano? Questo! Tranquillo, e fidati di me! Questa ragazza è matta! Non riuscirai a prendermi! Ora! Aia! Apri il rubinetto! Questa ragazza è geniale! È incredibilmente geniale! Ehi, pensi che il T-Rex mangino tanto? Beh, lo scopriremo presto se Ladybug non torna subito! Tutto ok, abbiamo trovato il calmadino! Era rotolato sotto il mio ciclotrone! Oh sì, chi è un bravo T-Rex? Ma tu! Pu-pu-ci-pu-ci-pu-ci-pu! Tutto bene, carapace? Ehm, sì, sì, sì! Ben fatto! Auguri coi suoi bravi T-Rex, signora Dubocala! Ciao! Forse non è stata una buona idea riportare voi dinosauri in vita! Che cosa me ne farò di voi? Mangerete tutte le mie scorte alimentari!